bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi siamo nella sfida della settimana numero 10 di forte le sfide di mida c'è una sfida molto particolare che ci chiede di visitare l'agenzia semplicissimo ovviamente l'uomo di paglia che si trova invece nel quadrato f4 dove c'è questa zona ragazzi tra fattoria e gli alberi ma la cosa più particolare è lapidi lipidiche che come vedete ragazzi è esattamente la posizione in cui ci sono le teste del burger e del tomato quindi davvero molto semplice per la posizione corretta siamo nel quadrato c5 esattamente qua io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale ea me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao